Agenzia Rizzarti An awful love Se ami le nuove tendenze, rendi unico il tuo stile con un vero tocco di classe ai tuoi capelli Giancarlo Parrucchieri, centro autorizzato Degrade Consail I professionisti della colorazione Rendi speciale e illumina il tuo capodanno con la magia di luci, colori e i migliori fuochi d'artificio Pirotecnica Castellana, ti aspettiamo tutti i giorni a Casa Corba di Vede Lago Eccoci in onda qualche minuto dopo rispetto all'orario classico Ma ci siamo rigorosamente Cittadella perché anche quello appena trascorso è stato un weekend decisamente favorevole per i colori Granata Dopo la pausa c'era un po' di timore, timore invece spazzato via dai due gol di Pandolfi e Pittarello Con i quali Cittadella ha abbattuto e battuto il sul Tirolo Allora cominciamo da qui dalle immagini della partita del tombolato e poi torneremo in studio per commentarle assieme Cause it's the little things that mean an awful love Se ami le nuove tendenze, rendi unico il tuo stile con un vero tocco di classe ai tuoi capelli Giancarlo Parrucchieri, centro autorizzato Degrade Consail I professionisti della colorazione Rendi speciale e illumina il tuo capodanno con la magia di luci, colori e i migliori fuochi d'artificio Pirotecnica Castellana, ti aspettiamo tutti i giorni a Casa Corba di Vede Lago Tutte le immagini del pirotecnico 2-1 con cui il Cittadella batte il sul Tirolo Portando a casa la terza vittoria consecutiva di questo campionato Dopo la sosta ripartono bene gli uomini di mister Gorini L'inizio però del sul Tirolo con questa palla che viene messa al centro Mercai di testa non ci arriva, fa buona guardia Castrati È una Cittadella Caparbio, un Cittadella che prova subito ad attaccare e trova il gol con Pandolfi Il tiro di Cassano corretto in rete da colui che aveva giustiziato il Palermo prima della sosta L'attaccante Granata realizza il suo secondo gol consecutivo Zampata, lesta a tu per tu con Poluzzi che nulla può Cittadella in vantaggio, la soddisfazione di Gorini, la preoccupazione di Bisoli È un sul Tirolo comunque mai d'uomo, prova a rendersi pericoloso in area Esce molto bene Lancastrati, reduce dall'esperienza in nazionale con la sua Albania Tentativo dal limite di carriero, nessun problema in questo caso per Poluzzi Il sul Tirolo cerca nuovamente Fortuna lì davanti Pavan chiude ogni varco a tu per tu con la propria porta Cittadella che avanza, scambio vita dal limite Fa venire i brividi alla difesa della sul Tirolo Finisce solo 1-0 per il Cittadella il primo tempo Nella seconda frazione, brividi in area Granata Con questo tocco che secondo il signor Furno inizialmente da parte di Danzi è con la mano Viene rivista al VAR la decisione, rigore che viene tolto dal direttore di gara È un sul Tirolo che però non si arrende E allora Cagnano dal limite dell'area Paratona di Castrati che salva la propria porta Ancora il vantaggio della Cittadella Il sul Tirolo però trova il pareggio con Casiraghi Che mette in subuglio la retroguardia Granata Infila alle spalle del portiere della Cittadella Il gol dell'1-1 È un sul Tirolo che riesce a raddrizzare il match Cittadella che però è abituato in questo campionato a reagire Nonostante i gol subiti E allora ci prova subito la formazione di Gorini con Cassano Primo tentativo, Poluzzi è super Poi vita due volte Ancora la risposta dell'estremo difensore della sul Tirolo Che vanifica questo tentativo Nulla può però Poluzzi poco dopo Perché la scelta di fare entrare Pittarello è decisiva L'assist di testa di Negro Pittarello arriva e mette dentro il gol del 2-1 Gol fondamentale per la terza vittoria consecutiva Per quanto riguarda il Cittadella Gol pesantissimo Da parte di un Pittarello che aveva iniziato il campionato Con il freno a mano tirato Ma che ora si sta sempre più lasciando andare Cittadella che porta a casa tre punti Sale a 22 in classifica Grande festa al tombolato per gli uomini di Edoardo Gorini Bollo o non bollo Tranquillo con il team di Agenzia Rizzardi Potrai pagare il bollo Regolarizzare eventuali errori Gestire il contenzioso con la Regione Veneto Viaggia sereno con Agenzia Rizzardi Se ami le nuove tendenze Le immagini accenniamo adesso i riflettori sul nostro studio Do al bentornato a Vincenzo Pitturelli Ciao Vincenzo Ciao Johnny Un saluto agli ascoltatori Accanto a te Diego Zilio Ciao Diego Ciao Johnny Buonasera a tutti E torna nei nostri studi anche il sindaco di Cittadella Luca Piero Bona Sindaco buonasera Buonasera a tutti Comincerà il sindaco Allora la fotografia L'immagine che resta di questo 2 a 1 Tanti aspetti positivi Ce n'è uno in particolare Ma l'aspetto positivo Ma è un aspetto positivo diciamo Da inizio campionato È che si vede un Cittadella che gioca bene Diciamo questa partita l'aspetto positivo Sono i due gol Dei due attaccanti Perché se c'è un qualcosa Che da qualche anno ormai manca Al Cittadella È appunto la regolarità Di andare in gol Da parte degli attaccanti Però devo dire che Forse un paio di partite Ecco il Cittadella non le ha giocate bene Da inizio campionato Ma in quasi tutte le altre Si è visto comunque Un Cittadella che aveva voglia Di vincere O comunque di fare Di fare risultato È anche stato sfortunato In alcuni casi E soprattutto una cosa importante Che si vede ecco Dalle ultime partite È che finalmente diciamo Abbiamo anche dei cambi Nel senso che il Cittadella Può permettersi ecco Di sostituire tranquillamente Qualche giocatore Che parte nella rosa Nella rosa iniziale Insomma nella formazione iniziale E trovare dei degni sostituti Che ne prendono il posto Quindi molti aspetti Aspetti positivi Naturalmente Bravi giocatori Bravo l'allenatore E bravo Bravo Marchetti Che è andato A scovare Insomma Dei giocatori in giro Per l'Italia O peraltro Insomma dopo questa sosta Sono stati recuperati Praticamente tutti Abbiamo rivisto in campo Anche Ed ha iniziato Con un pregevole Colpo di tacco Baldini Diego La fotografia Insomma della partita L'ha fatta Il sindaco Che cos'è che ti ha colpito Però In particolare Di questa vittoria Perché I gol Diceva il sindaco Però è stata costruita Anche negli altri reparti Perché insomma Senza determinati interventi Senza determinate giocate Il risultato Non si portava a casa Guarda io la definirei Una prova di maturità Superata Lo è perché Troppe volte In passato Cittadella Aveva steccato Dopo un'impresa E sicuramente Quella al Barbera Contro il Palermo Lo era E aveva steccato Dopo la pausa di campionato Pensiamo alla gara Di Pisa Ad esempio Che è una forse Delle due Assieme a quella Colcomo Che Cittadella Ha cannato Completamente Neanche completamente Perché poi in realtà Nell'ultima mezz'ora Si era tirato su Ma insomma L'ha sbagliata E c'era un aggravante Se vogliamo rendere Il quadro Insomma più complicato Il fatto che Su Tirol È forse l'avversario Più scorbutico Che si possa affrontare In questo campionato Perché è una squadra Che non ti fa giocare È una squadra molto fisica È una squadra Dopo poi Che aver raggiunto Anche il pareggio Era tutt'altro Che scontato Che Cittadella Sapesse reagire così E invece ancora una volta Ha saputo farlo Ma ha saputo farlo Con pazienza Direi La pazienza Che è magari Una virtù Che non troppe volte Abbiamo visto In questa stagione E in questa squadra E per questo Si parla sempre Sai di gare Spartiacue Il test La sfida Che può dare la svolta E sono anche frasi fatte Che è colpa nostra Tirare fuori Insomma E ripetere Però in questo caso Mi sento sul serio Di dire che ho visto Una prova di maturità Importante Per tutto Questo insieme Di variabili Che influivano Vincenzo C'è anche più fiducia Nei propri mezzi Perché tre vittorie Consecutive Non arrivavano Da un bel po' di tempo Ma una vittoria Così Diceva prima Diego Nel momento in cui Si è pareggiato Quando il sul tiro Era pareggiato Non era scontato Poi a volte In altre occasioni Al Cittadella Magari erano Tremate un po' le gambe Non magari in questa stagione Ma in passato Invece si è avuto Un'altra conferma Insomma Di quanto sia forte Il carattere Quest'anno Della squadra Gara da squadra Strutturata Da squadra Consapevoli Sull'1-1 È vero che Più di qualcuno Può aver pensato Ecco che la Tris Non va in porto E invece Credo che Proprio questo match Abbia dato Enorme consapevolezza E ulteriore autostima Al gruppo Perché Si è visto Un rendimento costante Stabile C'è stata proprio La pazienza La capacità Di attendere Il momento opportuno Per colpire E credo che Con queste premesse Adesso Più che mai Il Cita Può diventare Avversario scomodo Per chiunque Perché Non ha più La prensione Del dover guardarsi Alle spalle Fermo Stando che Non bisogna mai Smettere di guardarsi Alle spalle Però Ha la voglia Il desiderio E può giocare Come si dice Spesso In maniera Leggera Leggiadra Anche un po' Più spensierata Altro termine Che si abusa Spesso in questi anni Però Ha un significato Con quella leggerezza Appunto Che ti permette Di esprimerti al meglio Poi noi affronteremo Sicuramente Il prossimo turno Io un po' Anticipo già E la gara Con la Feralpi È ideale Perché è un rischio Clamoroso È un trappolone Perché la Feralpi Si gioca Mezza stagione In questa partita Però dovrà scoprirsi Fatalmente E il Cita Potrebbe anche Approfittarne Un punto La Feralpi Non può andar bene Deve andare a cercare tre E allora Magari ti può dare Quei corridoi Quei varchi In cui Il Cita Di rimessa Può produrre Veramente il suo super massimo Ho detto che La Feralpi Di punti Nelle ultime cinque partite Ne ha fatti Appena due Qui abbiamo visto I prossimi turni Delle cittadella Andiamo a vedere In grafica Il quadro Dei risultati Completi Di questa giornata Per capire un po' Come è andato Il fine settimana Sampdoria Spezia 2-1 Bella vittoria del Venezia 3-0 a Bari Altrettanto bella vittoria Delle cittadella Contro sul Tirol Como batte Ferralpi Salò 2-1 Cremonese Lecco 1-0 1-1 tra Parma Modena Reggiana Ascoli Pisa Brescia Catanzaro Vittoria 2-0 Sul Cosenza 1-1 ancora tra Ternana e Palermo Con Corini Che scricchiola sempre di più La classifica Volevo vedere E volevo chiedervi Insomma se È giusto cominciare Un po' a guardarla Parma e Venezia 30 punti Cremonese 25 Como Palermo Catanzaro 24 Modena 23 Ottavo posto Zona playoff Cittadella 22 Con tre punti di margine Sulla Cosenza Poi a seguire Tutte le altre squadre La Ferralpi Salò Prossima avversaria Le città A sette punti Fa sorridere Questa classifica I sette punti Della Ferralpi Salò Sindaco Però non sono Insomma Significato che ci si può Sedere sugli allori Diceva Vincenzo Non basta un punto Alla Ferralpi Sono minacciose Insomma Queste squadre Messe così poco bene Sì ma a me Sembra un po' Di rivivere un po' Il pre partita Con l'Ecco Anche l'Ecco era preso Preso molto male Cittadella ha vinto Per fortuna Ma partita difficile Partita che il Cittadella Ha vinto Ha vinto alla fine Ecco io mi auguro Questa è una partita E questa è una partita Forse più importante Per il Cittadella Perché comunque Chiamiamola pure Una diretta avversaria Perché comunque Il Cittadella è stato chiaro Dall'inizio campionato L'obiettivo principale È la salvezza E quindi è chiaro Che se guardiamo Dalla parte Diciamo negativa Della classifica I punti sono nove Da un eventuale play out Quindi non bisogna Abbassare sicuramente La guardia E con la Ferralpi Bisogna far punti Bisogna far punti Bisogna portare a casa Sicuramente qualcosa La cosa ideale sarebbe La vittoria Sono partite difficili Sicuramente in casa loro Eccetera Si parte magari Gallivanizzati Da tre partite Che vinte È chiaro che Si fa presto a distrarsi Perché poi il calcio Lo conosciamo È un bellissimo sport Appunto perché Fa presto anche A cambiare A cambiare il vento È chiaro che Sulla carta Sulla carta Dovrebbe essere Una partita Abbordabile Anche se abbiamo visto Che la Ferralpi Ha fatto 2-1 col Como Io non ho visto la partita Però insomma Già quando vedi un risultato Dove comunque il Como Il gol se lo prende Eccetera Vuol dire che non è sicuramente Una squadra da sottovalutare Se il Cittadella Facendo tutti gli scongiuri Portasse a casa Un altro risultato positivo È chiaro insomma Che si può stare Ecco un po' più Un po' più tranquilli Mi ricordo Il volo Su quello che ha detto Il sindaco E ha detto una cosa Secondo me Sacro santa Perché uno vede La classifica E dice Ecco Nell'immaginario collettivo A volte un po' banalotto Dice ecco Tre punti Giochi con l'ultimo Ma mai Mai E poi mai Perché sono queste Le partite più ostiche È fondamentale Muovere la classifica Poi porti a casa Tre punti Benissimo Festa grande Però non devi Restare a secco Te devi veramente Puntellare la classifica E' chiaro Far di tutto Per cercare Il bersaglio grosso Che ti può veramente Mutare un po' gli orizzonti Tanto più che abbiamo visto La classifica Ci sono Il drappello di squadre A ridosso lì Della zona playoff Cito il Modena Cito lo stesso Como Che stanno pedalando Fortissimo E quindi devi Se vuoi mantenere quel passo Devi veramente pedalare Alla stessa maniera Risolto il problema Tra virgolette Attaccanti Secondo voi Perché Pandolfi Trova il secondo gol consecutivo Pittarello Dopo un inizio di stagione In cui ha faticato A carburare Insomma I gol Li ha trovati Gorini ha Modificato Per qualche tempo Il modulo Facendo capire Insomma Che non sempre C'è tanto spazio Per gli attaccanti Quindi magari Un po' di strizza È venuta E insomma Adesso la situazione Sta cambiando Però Ci si può tranquillizzare Oppure Bisogna fare attenzione Secondo voi Diego Ma ne scherzavamo Col direttore A fine partita Sulla regola del 2 Perché sono tutti A quota 2 In classifica marcatori Pittarello Pandolfi Cassano Magrassi Maestrello E lui diceva Ma è una regola Lasciarli Perché insomma Che non ci si termine a 2 Però è significativo Secondo me Come è dato Perché appunto È chiaro Che in questa squadra Non ha il bomber La doppia cifra Non ha il giocatore Che vince le partite da solo Ma il fatto Che siano così tanti Ad andare in gol È sicuramente positivo Perché vuol dire Che appunto Hai più frecce Ma c'è secondo voi Un inizio di gerarchia In casa Granata Magari visto il momento Pandolfi di sicuro Non è in fondo Però Si comincia a delineare Un 11 titolare Con anche lì davanti Le due O la punta principale L'impressione mia È che Pandolfi È uno che se va in fiducia Può regalarti Tante soddisfazioni Perché le qualità E i numeri ce li ha Pitarella è proprio Più votato Ha un ruolo di gregario Preziosissimo Ha un ruolo di sacrificio Lui si sbatte tanto Per la comunità Non mi aspetto Vagonati di gol Da parte di lui Gol pesanti Come ha fatto finora E magari Un servizio Proprio preziosissimo A beneficio della comunità E invece no E invece Pandolfi Ha un po' le giocate Del calciatore di livello E se me può lievitare tanto Secondo me Lo vedo un po' come un Chiesa Chiaramente Tecnicamente Meno forti di Chiesa Però Con il giocatore Che ti spacca La difesa avversaria Che va via In velocità Forse è uno degli attaccanti Più completi In casa Granata Corini dice Che è il più completo Che ha a disposizione E che però Deve crescere Deve lavorare Perché ha delle pause Che si concede Perché non sempre collabora La fase difensiva Come gli si chiede A Cittadella In particolare Però sicuramente I mezzi Ha dimostrato di averli E tra l'altro È anche Bello Sottolineare questo Non è sicuramente Il protagonista Che ti attendevi Perché è arrivato Da Cosenza Dove era Panchinaro È arrivato Da anni di C In cui si aveva segnato L'ennesima intuizione Del direttore E anche di questo Parlavamo a fine partita E diceva sì Che fa particolarmente Piacere Proprio perché ti aspetti Magari altri Uno su tutti Poi adesso parliamo Dell'attacco Ma potremmo citare Negro Che è forse l'emblema Da questo punto di vista Arrivato da Svincolato Non lo voleva nessuno Si allenava da solo Nel Biellese Con una squadra di eccellenza Sì e no Faceva lunghe camminate Per tenerti in forma Tu non ti aspetti Che questo ti esploda E invece Cavolo Ha mostrato una presenza In campo Sia in difesa Poi sia in attacco Perché l'assist È tutt'altro che banale Quello che fa per il gol Di Pittarello Di testa È cercato E lo vedi Però cito loro due Perché appunto Sono sicuramente I protagonisti Che non ti aspetti Però oggi Come oggi Fosse una finale Da giocare domani Non me li vedo Che li tieni fuori Come non mi vedo Che tenga fuori Pittarello Se si gioca domani Perché forse È più funzionale Di tutti Agli inserimenti Dei compagni Al creare spazio Infatti Pittarello Sommai è un giocatore Che va al minutaggio Più alto Tagli attaccanti Perché non ne puoi fare A meno Ma fa meno gol Sì ma è essenziale E' essenziale Per i compagni E come diceva Diego Beh Negro Gran presa Veramente Gran presa Di Marchetti Poi magari Avrà i momenti Di defaianza Avrà un calo Ma Pescare uno Dall'elenco Dall'elenco Degli svincolati E per nulla Richiesti in giro Lo porti In serie B E questo ha un impatto Da gran veterano Beh insomma Complimenti Peraltro mi sa che Negro Se davanti Magari le gerarchie Non sono delineate Lui con il suo arrivo Insomma un po' di gerarchie L'abbia sparigliate Lì dietro No? Beh allora A me è piaciuta L'intervista oggi Che c'era Sui giornali nostri Sul mattino Sul gazzettino Su di Negro Dove lui Gli chiedono Il perché E lui dice Perché ho fame Cioè lui Passava il concetto Che è un concetto Un po' tutto veneto L'aver fame Nel senso Non fisico di cibo Ma di lavorare Di poter dimostrare Un qualcosa Quindi penso che lui E' una bellissima storia Partendo appunto Dal Pordenone Fallito Si è trovato senza squadra E poi Ha avuto la chance Perché insomma Si gioca in In serie B E' una Una bella favola E mi piace Ecco mi piace Il messaggio Che ha fatto Che ha fatto passare Ma probabilmente È un messaggio Che passa all'interno Di tutta la squadra Perché se poi C'è questa competizione Buona Anche tra gli attaccanti Vuol dire che C'è questo messaggio Di aver voglia Di ottenere Un qualcosa Di importante Non dimentichiamo Che c'è Baldini Che è rientrato E quindi Insomma Teoricamente Dove essere il giocatore Tecnicamente Insomma Tra i più forti Del Cittadella Io mi auguro Ecco Che anzi Gli auguro Che non abbia più Problemi fisici E che quindi Possa dare Il massimo Il massimo Il massimo Rendimento Quindi insomma Ci sono tutte queste pedine Che si stanno Mettendo a posto Ma poi Pavan Lo stesso Che è spostato indietro Fa il centrale Che insomma Sembra Bravo Gorini Sicuramente I bravi giocatori Anche ad adattarsi A posti Un po' Fuori ruolo Io mi auguro Che sia Frare Che Angeli Ritornino In forma Sia fisica Che anche Che anche mentale Perché secondo me Se il Cittadella Riesce ad essere Impostato Come dovrebbe essere Impostato Sulla carta Ci sarà Da divertirsi Ecco Sicuramente Ci fermiamo Un attimo Tra poco Sentiremo le parole Di Negro Vedremo anche Insomma La formazione Dei 50 anni Granata Insomma Tante altre cose Nella seconda parte Del nostro programma Restate con noi Siamo tornati in onda Andiamo allora A sentire Le parole Del difensore Granata Negro Al termine Del match Vinto contro Sud Tirola Ci portiamo a casa Tre punti Importantissimi È una partita difficile Dove sapevamo Che loro Non mollano Assolutamente nulla Si è visto Quando hanno pregiato Però tra una squadra Che non molla E un'altra che non molla L'abbiamo vinta noi Anche se Forse per noi Nel secondo tempo Era ancora più difficile Da portare a casa Quindi una bella prova Di carattere Bisogna andare avanti Su questa strada Tu sei l'ultimo arrivato Come è stato Ambientarti qui? Devo dire È stato davvero facile Perché Siamo un gruppo Di ragazzi straordinari Tutti umili Con fame Voglia di fare Sono arrivato E sembrava Che fossi con loro Già da due anni Quindi Devo proprio Ringraziarli Anche per questo Perché non sarebbe stato Così facile Se non avessi trovato Un ambiente del genere E questo si vede anche in campo Appunto tra l'altro Sei che esordiente Sire B Esatto Sì È da tanti anni Che aspettavo Di un'occasione del genere Farlo qua È stata La ciliegina Sulla torta Ecco dai Queste le parole di Negro Diego Tra l'altro Citava appunto Negro Il fatto che il secondo tempo Era difficile anche per le condizioni Poi C'era effettivamente Un vento fortissimo Adesso sembra una scuda Di quelli alla Mazzaria Piove A un certo punto è più No c'era un vento fortissimo E infatti anche il gol Che hai preso Bravissimo Katiraghi Perché comunque Ha dato merito Anche agli avversari Ha fatto una gran giocata E Però Dalla posizione in cui eravamo Anche alla tribuna Si è visto proprio benissimo Salvi fare un movimento Ad allargarsi di un metro buono E perdersi poi quel metro Che poi hai lasciato di spazio A Casiraghi Proprio perché Vedevi che la palla È stata spostata dal vento E tutto il secondo tempo Cittadella che ha dovuto farlo All'attacco Per riportarsi in vantaggio Diceva Negro In confidenza Insomma a fine partita Era come giocare in salita Perché facevano veramente fatica A tutarsi il pallone Si è visto in ogni lancio lungo Insomma Sembra banalità Ma poi è una variabile Anche questa Che c'era Adesso una settimana Impegnativa Che porterà la sfida Contro la Feralpi Salò Feralpi che come detto Ha ottenuto due punti Nelle ultime cinque partite Il Cittadella invece Ne ha portati A casa nove È il Cittadella Il principale avversario Di se stesso In questa fase Perché contro la Feralpi Salò I riflettori Sono tutti puntati Sui Granata Nel senso La Feralpi non ha nulla Da perdere È inutile che si trattenga O che forse un punto Come diceva Vincenzo Ha ben poco senso Per la squadra avversaria No? Per la Feralpi Sicuramente Loro Chiaro Non saranno Non sarà un assalto Di Senato Perché siamo ancora A inizio dicembre Sarà ancora inizio dicembre La gara E quindi Dovrà ragionarci Dovrà essere razionale La Feralpi Però mi aspetto Veramente Una squadra Che poi spinga In maniera evidente E lì dovrà essere bravo Veramente Il Città Fare una partita Sulla falsariga Dell'ultimo Cioè Con grande consistenza Difensiva Con capacità Di ripartire Con efficacia E qua Servirà Citando anche Il sindaco stesso Diego Il Baldini Non ancora migliore Ma sembra importante Avere un Baldini Chiaro In ritario di condizione Ma capace già Di offrire uno spicchio Del suo infinito magistero E sono certo Che da qui A qualche gara Sperando sempre Confidando Che non siamo più Intoppi Possa lievitare Progressivamente Perché lui È un altro Che ha una voglia Smisurata Di rimettersi In circolo Dopo un infortunio Pesantissimo E ha voglia Di incidere Io Due o tre partite Trove la spazio Baldini A cammin facendo In corso d'opera Sono certo Che con la Ferralpi Gioca Spezia Se la gara È in equilibrio E c'è necessità Di una giocata Ad alta scuola Per sbloccarla Trove la spazio Insomma Baldini Per forza Perché il giocatore Di più alto tasso tecnico Non appunto Penso anch'io Comunque Senza forzare Anche perché Non hai bisogno Di forzare Per cui in altre situazioni Magari la squadra È in difficoltà E il giocatore Così Lo butta dentro Da subito Cittadella Non ha bisogno Da quel punto di vista Di rischiarlo Però appunto Lo città Vero in inizio Lui è entrato La prima cosa Che ha fatto È un colpo di tacco A me Queste cose In genere Non fanno impazzire Perché sembrano Che i virtuosismi L'ha fatto bene È preciso Però sembrava quasi Voler ristabilire Le gerarchie Guardate che io Sto cose qua Le so fare In una squadra Che corre Che lotta E tutto Io il mio Lo posso fare Poi al di là Di quel gesto tecnico Ha fatto una partita Molto intelligente Anche nel gestire Il pallone Soprattutto nei minuti finali Quando era in vantaggio Tenere palla Andare a cercare La bandierina La gestione La gestione Della partita Cosa su cui Cittadella Magari negli anni scorsi Era un po' così In ritardo Rispetto alle altre squadre Ha imparato a gestire Anche determinate situazioni Anche trovandosi Poi magari spesso In svantaggio Comunque Provando ad amministrare È una prova Di maturità Anche questa No ma era per quello Anche che ne parlavo All'inizio In questi termini Per carità È presto per dirlo Perché poi Insomma Basta una partita Dopo a dimentirti Però Quello che si è vista Con il sud di Tiroli Sicuramente sì Si è vista una squadra Che appunto Sapeva anche Tra virgolette Perdere tempo Quando era il caso Di farlo Appunto E senza forzare Senza rischiare Ha avuto pazienza Ma guarda che Poi la stessa pazienza Che aveva avuto In un caso Totalmente diverso A Palermo Dove è attaccato Ne avevi di più Nella fine E l'averne di più Poi si è tramutato In un gol Meritato Ma Appunto Altre volte Ci abbiamo visto Cittadella Attaccare E scoprirsi Quale ha fatto Sempre col massimo Criterio Ecco Dicevi all'inizio Hai richiesto Appunto al Pitu Secondo me Adesso Devi Abituarti A vincere Dicevamo Cittadella Tre partite Di fila È un fatto Esorbitante Nel senso Che era da marzo Del 2021 Gestione Venturato Che non lo facevi Non aveva mai fatto Neanche due di fila Prima di Brescia e Palermo Prima di quest'ultima Partita Arrivava sempre Il braccio Avevi un po' perso Quell'abitudine lì E qua devi convincerti Che può arrivare Anche la quarta Voglio dire Facendo tutti gli scongiuri E non è il caso Eclatante È una cosa A cui devi abituarti Devi capire Che non c'è niente Di strano Se credi in te stesso E quella convinzione lì Mi auguro E anche qui Parliamo di preve Maturità Che questa partita Questa vittoria Ti sia servita A sbloccarti Anche da quel punto di vista Le prossime avversarie Sono Feralpis Allo Cosenza Modena Spezia E a Santo Stefano Arriva l'Ascoli Non avversarie impossibili Squadre però Tutte più o meno Insomma Alle prese Con qualche problemino Con qualche situazione Magari anche atipica Allo stesso Modena Ai piani alti Nella classifica Lo Spezia invece Che avrebbe dovuto Ammazzare il campionato Dopo poche giornate In netta difficoltà Segno che questa Serie B È imprevedibile Ma come L'anno scorso Ormai Da qualche anno Ormai la Serie B È un campionato Difficile Perché ci sono Molte squadre Forti Alcune Sono partite Anche la Sampdoria Partite in difficoltà E dovevano essere squadre Che probabilmente Dovano essere in altre parti Della Della classifica E il Cittadella Che magari doveva essere Quello che soffriva Un po' di più Magari invece Soffre un po' meno Campionato difficile Sicuramente Ogni partita Secondo me È difficile L'anno scorso Io mi ricordo Si parlava Ma gli unici sei punti sicuri Sono contro il Sud Tirola Ci ricordiamo Il Sud Tirola La prima L'andata Il disastro Come ci ha massacrato E poi là Insomma Partita importante Per il Cittadella Col pareggio A Bolzano Che è quello Che ha segnato Un po' La salvezza Diciamo che Secondo me La forza in più Che abbiamo Anche quest'anno È anche La maturità L'esperienza Che sta maturando Il nostro allenatore Edoardo Gorini Perché comunque Anche Gorini Sta crescendo Secondo me Si sentono ogni tanto La polemica Quando qualche partita Non vale L'allenatore qua L'allenatore là Eccetera Adesso non più sui social Fino a qualche partita Fassi Adesso Adesso invece no È chiaro che Tanto il bello del Cittadella Cos'è È quello che L'ha detto anche Gorini L'anno scorso È quello che la fiducia Non manca mai E penso che In qualsiasi lavoro Immaginarsi poi Nello sport Dove hai La partita Che ti deve dare Il massimo risultato È fondamentale E avere la fiducia La fiducia Di chi è alle spalle Di chi ti ha scelto E Gorini Anche Gorini Sta crescendo Sta imparando Sta maturando E si sta dimostrando Un bravo allenatore Non abbiamo Praticamente A parte tre giocatori Il Pavan Il Branca Il Vita Il Castrati Il Portiere Il resto Li fa girare molto E quindi insomma C'è anche la capacità Di un allenatore Di fare i cambi giusti Mettere dentro le persone giuste Motivare la squadra In maniera corretta E anche questo Ecco Non va sottovalutato Noi parliamo sempre Dei giocatori Ma vuol dire Che c'è anche Un grosso lavoro Da parte dell'allenatore E naturalmente Di tutto Di tutto il suo staff Insomma Sentiamola allora Gorini Quello che ha detto Al termine della vittoria Contro il Sturtirol Io credo che la partita La vittoria di Palermo Ci abbia dato Maggior consapevolezza La partita di oggi Non era semplice È stata un po' condizionata Anche dal tempo Ma dal vento Però è stata interpretata bene Perché affrontavamo Una squadra difficile Da affrontare Molto fisica Che si chiudeva Che lottava Quindi Faccio i complimenti ai ragazzi Perché Siamo stati bravi Nell'interpretazione Della partita E soprattutto Siamo stati bravi Quando loro hanno pareggiato A trovare il secondo gol E credo che la vittoria Si è meritata Il primo bilancio Lo faremo a fine girone d'andata Adesso mancano cinque partite Dobbiamo essere bravi A fare più punti possibili A mettere il pieno in cascina E poi Vedremo più avanti Intanto godiamoci Questa vittoria Un dicembre bello impegnativo Con cinque gare Prima della pausa Di Natale Appunto Sì sì Una alla volta Dai L'affronteremo tutto Una alla volta L'importante è arrivarci Sempre con queste motivazioni Con questo spirito E con questa voglia Di conquistare la vittoria Poi è chiaro Che sono gli episodi Sempre a decidere le partite Ma il gruppo è sano Il gruppo è convinto E quindi Andiamo a Piacenza Contro la Feralpi Per cercare di vincere la partita Grande carattere della squadra Che è un po' la caratteristica Del Cittadella Oggi anche i gol Da parte degli attaccanti Fa piacere L'aspetto caratteriale È una cosa A quale tengo particolarmente Perché È sempre stata Una mia caratteristica Da giocatore Cerco di trasferirla Ai giocatori Alla mia squadra Mi fa piacere Perché quest'anno È stato dato più di un segnale Spesso siamo andati sotto Abbiamo ribaltato la partita Anche oggi Dopo il pareggio Non era semplice Cercare di vincere Quindi questo è un aspetto Che mi fa particolarmente piacere Così mister Gorini Siamo arrivati al momento Del nostro 11 per 50 La formazione Del mezzo secolo Granata Vi avevamo chiesto Chi inserire Come mezzala destra Tra Giancarlo Pasinato Federico Proia Achille Mazzoleni Alessio Vite E Gennaro Volpe Vediamo un po' Chi avete votato Alessio Vite Che ha ricevuto Un buon numero di voti Superando anche Un'icona Granata Come Giancarlo Pasinato Che nella formazione ideale Granata comunque È nella rota Perché è il secondo Tra i migliori giocatori Insomma votati per questo ruolo Eccola qui Insomma Piero Boni in porta Benedetti Cherubin Perticone Salvi In difesa Vita Come mezzala destra E adesso andiamo a scoprire I nomi di un ruolo Altrettanto importante Perché è il momento Questa settimana Di votare Il miglior regista Di questo mezzo secolo Granata Allora vediamo un po' Quali sono i giocatori In nomination Cinque Ne abbiamo dovuti escludere Un bel po' I cinque scelti Massimiliano Busellato Manuel Iori Stefano Mazzocco Gianni Migliorini E Roberto Musso Allora qui abbiamo Un minuto A voi la parola Insomma Qui c'è un nome Che nel cittadella recente Insomma Tutelare Fa fatica A tenerlo fuori Dite che è una votazione Dall'esito scontato Diciamo che è ampiamente favorito Insomma È un po' come Il buon Manuel Iori Il buon Manuel Iori Che è un buon Manuel Iori Quando c'era il vincitore Disegnato il giorno prima Insomma O il mese prima Però insomma Vabbè Votazioni aperte Votazioni aperte È chiaro Iori Ha un valore Che va Al di là Di quanto Prodotti in campo Un giocatore Totale Dentro e fuori Il rettangolo di gioco Oh Un'altra cosa Stiamo per chiudere Un minutino Ci sono anche I recuperi In questa settimana Perché domani si giocano Insomma Como Lecco E strutture al Brescia Finalmente poi La prossima settimana Avremo la classifica Al completo Classifica che comunque Fino a questo momento Sorride Al Cittadella Siamo in chiusura Ma lunedì prossimo Torneremo Alle 22.10 Questa è stata solo Un'eccezione Ringrazio il sindaco Di Cittadella Luca Pierobono Per essere stato con noi Grazie Grazie a voi Ringrazio Diego Zilio E Vincenzo Pizzo Pittureri Ciao Un saluto agli ascoltatori Noi torniamo come detto Lunedì prossimo Alle 22.10 Vi faremo vedere tutto Quello che sarà accaduto Tra Feralpi Salò e Cittadella Insomma andremo a vedere Quello che sarà stato Il weekend di Serie B Grazie e buon proseguimento Con i nostri programmi Hai un'azienda Da Agenzia Rizzardi Potrai matricolare Veicoli professionali E semplificare La gestione delle pratiche Per il trasporto merci Con assistenza diretta Di un professionista Viaggia sereno Con Agenzia Rizzardi Se ami le nuove tendenze Rendi unico il tuo stile E con un vero tocco di classe Ai tuoi capelli Giancarlo Parrucchieri Centro autorizzato Degrade Consail I professionisti Della colorazione Rendi speciale E illumina il tuo capodanno Con la magia di luci Colori E i migliori fuochi d'artificio Pirotecnica Castellana Ti aspettiamo tutti i giorni A Casa Corba Di Vede Lago Di Vede Lago